Raga non ho capito perchè spara Eeeh Voi capite? Raga lo seguo attraverso il muro Ahahahahah Madonna Però è strano che abbia solo 13 kg Ah no ecco 14 E no ma voi streamer trovate solo lobby fangini Eeeh Amici miei benvenuti al prossimo video Vi ricordo di lasciare un mi piace Commentare qua sotto scrivendo se Stai trovando ultimamente hacker su warzone Tra l'altro vi ricordo che siamo in live qua su twitch Dalle due e mezza in poi Allora premessa Per tutti quelli che dicono che noi troviamo le lobby stream Cioè le lobby facili eccetera Vi faccio vedere questo screen Nel quale vi facciamo vedere più o meno le lobby Che ci escono quindi 1 e 40 1 e 30 1 e 12 1 e 13 Quindi i lobby difficili Soprattutto la 1 e 40 che vedete Dove comunque abbiamo droppato 55 kill E per chi non sapesse cosa significano questi numeri 1 e 40 per farvi capire È una lobby molto difficile Lobby da 1 e 10 sono medie Lobby 1 e 20 1 e 30 sono lobby difficiline Dall'1 in giù sono lobby semplici Questo non significa che però Noi becchiamo sempre tutte queste lobby Perché sono le stesse lobby che beccate voi Che becca chiunque L'SBMM su questo gioco è rotto Il matchmaking è rotto E non ha un vero e proprio senso Quindi ovviamente Quando vedete dei gameplay da 20 30 40 70 kill È più probabile che sia in una lobby Più tranquilla rispetto a una lobby 1 e 40 Però è ovvio che io per YouTube E tutti gli altri content creator Non vi pubblicano i gameplay da 7 10 kill in una lobby Cioè quello si guarda in live Nei tornei tra l'altro potete venire live per vederli Altrimenti su qua su questo secondo canale Vedete sì lobby complicate ogni tanto Mischiate anche a lobby tranquille Cioè non mi sembra di uccidere nessuno Comunque detto questo Dopo questa piccola premessa Sono tornati i cheater La cosa divertente è che sono tornati Ma allora vi dirò Ultimamente quello che mi fa girare il cazzo Cos'è? A parte l'imebot clamoroso che vedete oggi Che è qualcosa di allucinante La cosa assurda è che Stiamo beccando Su Rebirth soprattutto Meno su Caldera Un po' di cheater Ma gente tipo Che ha un KD normale Tipo da 1 Ok Che citta Ma non citta palese Citta Sbocco Non so come Tipo me No è vero non citta Però devo fare un altro appunto Effettivamente Ricochet Come cacchio si chiama Sta effettivamente funzionando Cioè io mi ricordo I tempi di Verdansk Dove praticamente in tutte le partite Per lo meno su Verdansk Insomma C'era un cheater C'era uno con l'imebot C'era un qualcosa di puzzolente Adesso ce ne sono molti di meno E questo ed effettivamente è vero Ma voglio sapere la vostra esperienza Quindi scrivetelo sotto nei commenti Perché sono curioso Vi lascio al video È morto È morto È però morto In fondo qua In fondo qua In fondo qua Vai Bull Vola Vola Sono sulla torretta Vai Uno stava dormendo Guarda ora ci va Ora ci va Capito ora che siamo morti C'è un po' Puffone Ma è così forte l'ime assist Eh sì 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 è così è uguale Venga ma è fortissimo l'ime assist Eh sì guarda funziona bene Di nuovo il cheat ragazzi Ah ma da sotto si può sparare Oh raga ma è cramoroso Però impariamo i nuovi spot per wallbangare così vedi Oh ma se è tutto wallbangabile qua oh Aspetta 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 che ce l'ha ce l'ha raga Ce l'ha aspettate eh Aspetta cosa sta facendo Questo sta puzzando raga Ma raga ma se lo riportate tutti viene bannato Provate a riportarlo all'infinito Provate Ma voi vi rendete conto che al primo fight che abbiamo fatto in questa partita abbiamo beccato quello con l'ime bot Eh vabbè oh capita Cioè avevamo Avevamo 70 persone da fightare siamo finiti su quello con l'ime bot Questo ultimi sette giorni ha 16.6 di KD 1.5 normalmente Quindi praticamente è uno che è uno che si è rotto il cazzo di fare schifo e ha iniziato a imbottare Raga non ho capito perchè spara Eeeeeee Voi capite? Non ho capito Ma ha fatto un long shot da un chilometro raga dietro una foglia Ma questo è assurdo Ma cos'è che c'ha questo raga? Puffone Ma puffone Ma non è confident neanche con l'ime bot raga non capisco Vediamo 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 Aspetta aspetta ce l'ha Dalli audio dagli audio Dalli audio togliamo la musica Ma quella nave? Quelle due navi? Sbarco in normandia? Sbarco in normandia Raga l'ha visto Raga l'ha visto attraverso la foglia Guarda quando carica non glielo locca E no e fa schifo Quello è il problema L'uomo lo segui Guarda guarda Locca tipo i massics questo Si si Trek Ragazzi ma attraversamente Guarda non riesce a seguire Se spara al vetro si Raga lo seguo attraverso il muro Però aspetta raga Scusa Trek allora senza fare il nome Di quello che ti ho inviato l'altra volta Quello secondo te è aim che puoi triggerare? Col pedale? Si Quindi quel tizio la cheitta secondo te? Si secondo me si Porco due Mamma mia raga però vede persone che non ci sono Cioè questo è clamoroso No non ne sono ancora sicuro Ci serve una clip per Dobbiamo capire se citta effettivamente Perché secondo me non citta Vedi che mi sta i colpi capito Secondo me ci siamo sbagliati Mi stanno dicendo che sta facendo il classico Beard watching Ma anche quel No no questa l'aveva vista Però raga scusate Ma non è questo l'evento King Kong vs Godzilla Si sta arrivando Ma questo è l'evento Godzilla credo Ora arriva Godzilla Questo è King Kong Poi arriva il martello Vediamo adesso capiamo Guardi Gli amici li coprono il culo Posso dirvi ragazzi che come Cheatano pure gli amici cheatano tutti e tre Raga ma posso dirvi che come cheater fa schifo 11 kill Eh beh sì infatti fa schifo Guarda salta pure ragazzi Tanti alighiero Aspetta ragazzi aspetta Vedete come locca bene però Si locca solo in modalità mirino Ma questo è rico shit Madonna Però è strano che abbia solo 13 kill Ah no ecco 14 Eh sì è partito è partito ragazzi Non citta non citta Non citta non citta Aspetta audio Ma perché li missa raga Ma li missa Ma li missa raga sto cheater di merda Ma fa vomitare Ecco il caso Questo è quello che hanno messo con i co-chip Ecco il caso Tiè fatevi i tornei su Warzone Tiè becca te sta roba Fatevi i tornei competitivi Ora esce dal muro Anche gli altri cheat no? Tutti cheat no? E' un team di cheat E' un team di cheat Ok E' eternal life Guardate eternal life Pure lui Quanti kill ha eternal life Quanti kill ha Mi sa poco che è lui però E' questo però quello forte Quello quello Stanno finendo Stanno finendo Ok sabato Sabato vi faccio vedere i condizionatori Sono bellissimi Ma quindi Ricochet diminuiva il danno dei cheater Giusto? Esatto Così hanno detto E' stato diminuito Ma lo avete riportato Allora Insultiamo di maniera goliardica Ragazzi No Di quel caricatore c'ha No grave No insulti pesanti Solo insulti meme Insulti meme Insulti meme C'è jumpy te Guarda Twitch jumpy Insulti meme Raga tranquilli Eleganti Non gravi Non fateci bannare Allora 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 Siete tutti eleganti Domani vi vestite Vi trovate dentro una scatola Fatta di legno Con i cuscinetti bianchi Dei fiori Ma non i fiori Perché siete delle ragazze Ma fiori perché siete sdraiati Di orizzone